Alcuni mesi fa, alla fine dell'inverno, durante un viaggio, ho avuto occasione di passare per la Versiglia, in Toscana, e, tra gli altri luoghi, ho visitato Forte dei Marmi. Se la stessa esperienza l'avessi fatta una cinquantina d'anni fa, avrei forse avuto una grande fortuna, quella di incontrare sulla spiaggia di Forte dei Marmi, il grande Eugenio Montale, che nell'agosto e nel settembre del 1972 compone una poesia di ambientazione, potremmo quasi dire turistica, proprio ambientata sulla spiaggia, che è il titolo della poesia che commenteremo quest'oggi. Ve ne do una prima lettura, eccola. Ora il chiarore si fa più diffuso, ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. Poi appare qualcuno che trascina il suo gommone. La venditrice d'erbe viene e affonda sull'arena la sua mole un groviglio di vene varicose. È un monolito diroccato dai picchi di lunigiana. Quando mi parla resto senza fiato. Le sue parole sono la verità. Ma tra poco sarà qui il cafarnao delle carni, dei gesti e delle barbe. Tutti i lemori umani avranno al collo croci e catene. Quanta religione! E c'è chi si era illuso di ripetere l'exploit di Crusoe. Poesia non certo famosa sulla spiaggia di Eugenio Montale, poesia però a mio avviso molto interessante. E che molto ci dice dello stile, del linguaggio dell'ultimo Montale, e che molto ci dice su ciò che Montale pensasse della sua contemporaneità. Di come l'Italia, di come il mondo stesse cambiando tra gli anni 60 e 70. Rileggiamo e commentiamo insieme il testo. Si parte da un endecasillabo, che è anche una frase semplicissima. Ora il chiarore si fa più diffuso. E l'ambientazione cronologica del testo. Immaginate di essere su di una spiaggia toscana nelle prime ore della giornata, magari qualche minuto dopo l'alba. Il chiarore si fa più diffuso. La luce in cielo aumenta. Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. Evidentemente sulla spiaggia non c'è praticamente nessuno e Montale si gode la sua solitudine. Poi il termine poi, scusate il gioco di parole. Poi appare qualcuno che trascina il suo gommone. Comincia ad arrivare un primo turista, una prima persona, indicata genericamente dal pronome qualcuno. Qualcuno sta portando con sé il gommone che utilizzerà nel corso della giornata in spiaggia. Compare poi un secondo personaggio che, come vedremo, sarà di fatto l'unico personaggio positivo di questa poesia. Anche di lei non si fa il nome. La si chiama la venditrice d'erbe, dunque una piccola commerciante che propone sulla spiaggia le sue mercanzie. La venditrice d'erbe viene, arriva, e affonda sull'arena, cioè sulla sabbia, la sua mole. È una donna evidentemente piuttosto pesante fisicamente. Un groviglio di vene varicose. Possiamo immaginare una donna ormai piuttosto anziana, grassa, che si muove a fatica. Viene paragonata, riga 7-8, a un monolito, a una grande pietra, diroccato dai picchi di Lunigiana. Ecco qui l'ambientazione geografica, locale del testo. Siamo in Versiglie, quindi alle spalle vediamo la Lunigiana, quella sorta di zona di nessuno che fa da confine fra Liguria da una parte e Toscana dall'altra. Il poeta parla con questa donna sulla spiaggia. Quando mi parla resto senza fiato. Le sue parole sono la verità. Peraltro verità è scritto con la V maiuscola. Sembra un iperbole, un'esagerazione, forse lo è, ma cosa significa questa espressione? Quando parlo con lei rimango come senza fiato, perché le sue parole sono come la verità in persona. Probabilmente questa donna, peraltro realmente esistita, era una donna molto semplice, probabilmente non istruita, con poche convinzioni sincere e semplici nella sua esistenza. Viveva un'esistenza positiva, felice. È come se avesse scoperto la verità, il segreto, per vivere in maniera serena e soddisfatta. Montale è quasi geloso, invidioso di lei e rimane senza parole, stupefatto della sua semplicità. Poi compare la parola ma, riga 12 e 11. Ma tra poco sarà qui il cafarnao delle carni, dei gesti e delle barbe. Eccoci arrivati al punto di svolta della poesia. Alle righe 11 e 12 compaiono tante altre persone, che vengono indicate, certo non con nomi e cognomi, ma con una figura retorica, che è l'antonomasia, la parola cafarnao, al verso 11. Cafarnao indica, metaforicamente, un gran numero di persone, un gran numero fastidioso di persone, una calca insopportabile. Sono i turisti e il turismo di massa che invade le spiagge. Tra poco arriveranno tutte queste persone con i loro corpi, le loro carni da esibire al sole, i loro gesti, magari gesti volgari, le loro barbe. Qui si fa riferimento al look che andava di moda, la barba lunga, nel corso degli anni 70 in Italia. Notate dunque come questa spiaggia del titolo, lentamente si popoli di persone. Prima non c'è nessuno, poi una singola persona, qualcuno, poi una venditrice d'erbe e poi arriva la folla, un cafarnao di carni. Qual è la considerazione che l'io lirico e che dunque poi montale ha di queste persone? Guardate bene a riga 13 e 14. Tutti i lemuri umani avranno al collo croci e catene. Quanta religione! Queste persone non vengono definite turisti o italiani, vengono definiti lemuri umani. E notate anche l'aggettivo tutti, perché sembra quasi che tutti questi turisti siano uguali, identici l'uno all'altro. Che cosa si indica con la parola lemure? Si possono indicare due cose diverse, ma attenzione, entrambe con un valore negativo. I lemuri, nel mondo antico, nel mondo romano, erano gli spiriti inquietanti, noi diremmo forse i fantasmi dei defunti, dei morti. Ancora oggi con la parola lemuri si intende anche un tipo di scimmie. Quindi che valga un significato o che valga l'altro non cambia molto, è comunque una parola di valore negativo. Tutti questi turisti sono uguali fra di loro, come delle scimmie che si scimmiottano a vicenda. Sono come dei fantasmi che spaventano Montale e tutti hanno lo stesso tipo di abbigliamento, gli stessi segni distintivi. Avranno al collo croci e catene. Quanta religione! Qui ovviamente è la figura retorica dell'ironia. I croci fissi al collo, queste catene con la croce, non sono ovviamente un simbolo davvero religioso, sono semplicemente un omaggio alla moda del tempo, da cui l'espressione quanta religione da leggersi con ton ironico. E arriviamo alla conclusione, ai versi 15 e 16. L'io lirico, Montale, si era illuso di poter essere una sorta di novello Robinson Crusoe, come dice a riga 16, ma non è possibile farlo, perché la spiaggia non è più vuota, è stracolma di turisti che gli danno fastidio. E dunque ad essersi illuso di poter ripetere le gesta eroiche del grande Robinson Crusoe e Montale stesso. Si era illuso e ora rimane disilluso. Come a dire, un tempo la spiaggia era un luogo di meditazione, di calma, di pensiero, pensate all'importanza del mare in ossi di seppia. Non siamo più negli anni 20 o 30 del 900, siamo negli anni 70, nell'epoca della massificazione, del turismo diffuso, del turismo di massa. E dunque queste belle spiagge della Versiglia non sono più privilegio di poche persone che vanno in spiaggia per meditare, ma sono diventate un luogo comune, ma anche nel senso letteral del termine. Un luogo comune a tantissimi turisti, tutti possono permettersele. E dunque addio meditazione, addio solitudine, addio Robinson Crusoe. Montale si sente come schiacciato, soffocato in mezzo alla massa, ed è in fondo una metafora del fatto che ormai il poeta, l'artista, si sente isolato nella società sua contemporanea e non venga riconosciuto e apprezzato dalla maggior parte delle persone che di arte, che di cultura non si interessano più e che vogliono semplicemente divertirsi e non pensare su quella spiaggia che dà il titolo a questa strana e a mio avviso interessante, poesia di Eugenio Montale, che ora vado a rileggervi. Ora il chiarore si fa più diffuso, ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. Poi appare qualcuno che trascina il suo gommone. La venditrice d'erbe viene e affonda sull'arena la sua mole un groviglio di vene varicose. È un monolito diroccato dai picchi di lunigiana. Quando mi parla resto senza fiato, le sue parole sono la verità. Ma tra poco sarà qui il cafarnao delle carni, dei gesti e delle barbe. Tutti i lemori umani avranno al collo croci e catene. Quanta religione! E c'è chi sarà illuso di ripetere l'exploit di Crusoe. Grazie a tutti per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e prima di andare via, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, basta un clic, al mio canale YouTube. Grazie ancora a tutti e al prossimo video!